del sindaco Giuseppe Ferrandini, dell'assessore Errano, dottor Giosuè Mazzetta, davano la loro disponibilità al sindaco di Torrenova, in provincia di Messina, per il gemellaggio. A questa lettera è allegato la copia di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torrenova del 2 maggio 2014. Ritengo di dover dare una risposta, quantomeno di cortesia, a questo Comune che ce l'ha chiesto un anno e mezzo fa. Siamo contentissimi di là e allora vogliamo ad unanimità. Grazie.